Hola a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video su FIFA 15 Road to Division 1 signori e abbiamo un pochettino fatto spese perché adesso signori e signori la nuova rosa è questa abbiamo in attacco Higuain e Barbo dietro abbiamo sempre i soliti menteseghe però abbiamo subito come DOC, CDC abbiamo De Rossi poi abbiamo in difesa Chiellini e in Porta Andanovic con queste piccole aggiunte speriamo di poter vincere qualche partita allora ragazzi come avete capito sto cercando di farmi una serie A come squadra quindi una bella italiana vediamo un po' cosa ci esce fuori iniziamo un po' a giocare infatti ho preso un po' di soldi grazie alla divisione cioè giocando in single player ecco facendo un po' di money e spendendo questi money ho preso un po' di giocatori iniziamo un po' vediamo un po' cosa abbiamo chi ci becca contro si si avanti siamo pronti noi siamo prontissimi e ciao buongiorno che bella squadra che hai vediamo un po' se riusciamo i barbo così e andiamo 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 i barbo andiamo i barbo non ti fermare uccideli i barbo i barbo una bestia sto ragazzo una bestia un bel bacca di barbo guarda si li magna mamma mia non lo sposti mai un altro rigore no no non è rigore no che palle pure il giallo tua madre dai su ti prego andando amici ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego andando muuuu mamma mia Grandissimo Oh no 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 Mamma mia Oh no 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 Il gol della merda Lo sapevo io Lo sapevo Non riesci a far gol normale Tu non riesci Si chiudilo No 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 Non fate caso Non fate caso No 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 Mamma mia andando Mamma mia andando Ok Dai No vabbè Due tiri ha fatto Due gol della merda Ma sei un fiore Non ne fai altri gol della merda Vai Rosso Bravissimo Ecco Che cazzo scatti Testa di cazzo Guarda 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 Cosa Cosa Vi prendi per il culo Vi prendi per il culo No no aspetta Stiamo scherzando E questo è di gole Certo Guarda Grandissimo FIFA Grande Mamma mia Mamma mia Mamma mia Dai Un altro di gole Così a cazzo Beh Bravissimo Tanto Un gol della merda Vai Sempre così Grandissimo Adesso ci fa gol Che cazzo fa Che minchia è successo Che cazzo è successo Ed eccomi qua ragazzi Non so che cavolo è successo Mi si è crashato il gioco Infatti ho visto tutto bloccato E FIFA 15 non risponde Ottimo Ovviamente La partita è andata persa Ovviamente Tanto è un 6 a 1 Quindi Benissimo Ok Allora Sembrerebbe abbastanza equilibrata Visto che non fa molta intesa Dai Ma no Ma che cazzo fa Uh Dai Dai Eguaino Ma che cazzo fa Ecco Calcio d'angolo Adesso Ma per chi Ah ok Mica Ho messo per me Ma che cazzo Che ha fatto questo Anche l'ho visto Ah Minchia Eh Ciao attaccante Ciao Vai Nolan 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 Ma Porca puttana Ricor Giallo Ah Mo' Di sicuro Segno Di calcio Di gore Isulto Un'ora e mezzo Ah Poi l'abito Fischio Boh Mo' Ma vai davanti Poi fischio È logico Eh Così ti fa no Vale Non corrono Non sono fancazzo Non sono fancazzo Non sono fancazzo Basta Basta Via Via Si si abbandona Ciao Fanculo Ragazzi Basta Sono incazzato nero Facciamo così FIFA Route 21 Lo sospendo Adesso io farò una cosa Continuerò la La divisione da solo Senza registrare Prenderò un paio di soldini Mi farò una squadra Non dico della madonna Ma meno decente Che possa far qualcosa Perché altrimenti Non è Cioè Mi viene neanche lo schifo Di mostrarvi un video Che dove perdo E mi incazzo Perché Giocatori fanno Realmente schifo Mi sono rotto il cazzo Adesso io Mi concentro Su FIFA Su FIFA Cerco di prendere Crediti Più che posso Mi faccio Faccio una squadra Decente Poi registro E facciamo delle partite Così Perché non è possibile Benissimo ragazzi Questo video finisce qui Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ciao